In una nota del 13 marzo scorso il MEF Ministero Economia e Finanze ha chiarito che ci sarà una proroga per il 730 precompilato. Infatti le aziende e l'Inps avranno tempo fino al 31 marzo per consegnare a lavoratori e pensionati la certificazione unica, quella che attesta il reddito le pensioni conseguite per cui il modello 730 precompilato sarà disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate non più dal 30 aprile ma dal 10 maggio prossimo. Iscriviti al canale e clicca sulla campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato.